Scusate, ma è uno spettacolo che è abbastanza indecoroso, Micheli? Dicevo la disfatta della politica, lo ripeto razionalmente, perché siamo su un baratro come paese, perché se facciamo l'elenco da 20-30 anni c'è un declino chiarissimo e contemporaneamente una crescita del debito pubblico. Sono due cose che fanno puni. La Spagna ha fatto una serie di interventi, ha cambiato il paese e improvvisamente è diventato un paese virtuoso in un certo senso. Noi abbiamo fatto il peggio, perché? Perché viviamo una grande crisi di classe dirigente, che poi si ripercuote sulla crisi politica, perché ovviamente se la classe dirigente è come è Alitalia, Telecom, Ilva, per dire i casi più clamorosi, e poi tutta l'infinità di piccole e medie industrie lungo la Via Emilia, eccetera, eccetera, che non hanno l'onore di finire sui giornali, sparite in una desertificazione, che si aggiunge a quella dei grandi gruppi. Diciamo a Milano, noi siamo molto fieri della città, io sono di Parma, ma abito a Milano, ma le due squadre di calcio non sono né milanesi, né italiane, forse nemmeno europee. I grandi, la Fiat non c'è più, vabbè la Montesi non è passata da tempo, la Falc non c'è più, la Pirelli non c'è più, cioè tutti i grandi gruppi, la ripresa, chi la fa? La fa in grandi gruppi. La Fiat aveva 340.000 dipendenti più o meno, la Olivetti 70.000, la E-Zon 70.000, eccetera. La Ferrari, che invece va a essere un'azienda, ne ha 3.000, quindi l'impatto generale sull'economia è molto ridotto. Quindi esistono una serie di difficoltà estreme, che io francamente insisto, ci vuole un manovratore al volante, e io penso che Gravi sia il migliore, perché tutto, tra l'altro nel momento in cui schizzerà l'inflazione, posso dire finalmente dal punto di vista tecnico, perché con l'enorme liquidità che c'è, era abbastanza bizzarro che l'inflazione non ci fosse, o meglio, c'è per gli straricchi. Gli straricchi, che hanno quantità di denaro enorme, e mi riferisco a certi paesi lontani, danari che poi vengono da affari non perfettamente trasparenti, per comprare il nuovo Iotto, o un quadro che non ha nessun valore, perché tanto non lo capiscono, eccetera, eccetera, lo pagano come se fosse inflazionato assolutamente il prezzo. Una volta l'inflazione colpiva viceversa la classe media e la classe più bassa. Quindi è un mondo che è totalmente cambiato, in cui il nostro paese ha il rischio di essere veramente sul... Di cadere giù? Di cadere giù, e come dicevo prima, viceversa c'è anche uno scenario positivo, perché l'economia non sono mai valori assoluti, sono valori relativi. Cioè, oggi rispetto agli altri paesi europei, l'Italia ha a combinazione una posizione di credibilità, con Draghi, che tiene in mano freno acceleratore, ecco, e con l'esperienza che ha. Oggi, veramente, è l'unico... Io non vedo un'altra persona, sono stati fatti... Però qua ci sono due poltrone per far questo, uno è il Quirinale e uno è il Palazzo Chiuso. Sì, ma dal Quirinale non fai quella. Non si fa quella. Dal Quirinale... Ecco, Cirino! Abbiamo pazienza, non dica sciocchezze, ci sono due poltrone di cosa? Alla riunione dei capi di Stato e di Governo, in Europa va il Presidente del Consiglio, al G20 va il Presidente del Consiglio, non va il Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica può consigliare, può fare delle operazioni di moral suasion, ma chi fa le politiche è il capo del governo, è la sua maggioranza. Ma volete fare una disinformazione? No, 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 ma la preoccupazione... Scusate, noi ci troviamo in una situazione in cui la preoccupazione di chi sostiene che Draghi debba andare al Quirinale, e non è Michele, Michele lo vorrebbe al governo, naturalmente, ma la preoccupazione è che tra ore e il 2023 Draghi al governo, con la campagna elettorale che comincerà, non sarà in grado di governare come vuole lui? Ma posso parlare? E quindi... E che quindi... Se avete difficoltà, io non ho difficoltà, tanto mi avete chiamato nove anni fa quando è morto Giulio Andreotti, mi avete chiamato dopo nove anni, se mi avete dato qualche minuto, bene, se no per carità, amici, più di prima. Eccoci qua. Bene, e allora, qual è l'esigenza che diceva Francesco, Michele, e che diceva lo stesso Carfagna, in ordine al rapporto della modifica dei trattati in Europa, richiede che Draghi non solo resti al governo, ma voi avete detto una cosa importante, Draghi rappresenta l'elite, l'ha detto proprio Formigli, io devo aggiungere e specificare che rappresenta l'elite finanziaria. Io apprezzo talmente Draghi che vogliono resti formi in elite politica, ma non mettendolo imbalsamato alla presidenza della Repubblica. Draghi nel 2023, se andiamo a votare nel 2023, deve fare la stessa scelta che fece Guido Carli, di entrare in Parlamento ed essere una carta vincente, o per il governo nazionale, o per il governo dell'Europa, perché è oggettivamente un'energia della quale l'Italia non si deve privare imbalsamandolo in un... Comunque la grinta dei democristiani è strepitosa stasera. Mastella, Mastella,